L'Almanacco della Fede Di Padre Livio Incominciamo con un pensiero che oggi vorrei dedicare a un argomento che non sembra di alta spiritualità però sul piano pratico lo ritengo molto importante e cioè l'importanza delle immagini sacre l'importanza delle immagini sacre non solo diciamo nella Chiesa e sappiamo che a questo riguardo abbiamo tradizioni meravigliose anche dal punto di vista artistico nelle cattedrali nelle grandi diciamo così opere che sia un oriente con le icone sia un occidente in vari modi e hanno reso come dire palpabile la fede cristiana attraverso i personaggi della fede cristiana perché la fede cristiana non è soltanto una parola è anche una persona quindi fatta da persone Cristo quindi la Madonna e gli apostoli gli angeli, i santi che popolano le Chiese e sono diciamo i protagonisti della scrittura che sono anche i protagonisti dell'arte sacra sia in oriente sia in occidente in queste immagini hanno sempre avuto una funzione molto importante dal punto di vista spirituale quella di orientare l'uomo verso il soprannaturale perché è chiaro che l'uomo ha un corpo non è un puro spirito ha un corpo degli occhi con i quali vedono vede e quindi attraverso le cose visibili sale alle realtà invisibili questo è vero per questo magnifico fresco che è la natura stessa tutto il mondo visibile la creazione Gesù stesso ci ha indicato come è possibile attraverso le bellezze della creazione i giri del campo per esempio che sono stati vestiti dal Padre Celeste quindi risalire dalla bellezza dalla creazione al creatore ma però con le immagini sacre si fa un salto in avanti cioè sono proprio i protagonisti della storia sacra a partire da Adamo ed Eva abbiamo dei capolavori assoluti dell'arte che raccontano la storia della salvezza e poi l'Italia ne è piena e c'è anche una teologia ben precisa che è la teologia delle immagini cioè il valore che hanno le immagini sacre è un valore che va al di là diciamo della loro rappresentazione materiale l'immagine sacra è sempre dal punto di vista teologico è sempre indicatrice di una presenza cioè l'immagine sacra non è soltanto una illustrazione di una presenza è in qualche modo una è qualcosa che la rende presente difatti noi abbiamo anche per così dire dei miracoli straordinari nella storia bimilenaria della Chiesa di immagini sacre che sono state colpite magari per odio per rabbia e hanno cominciato a versare sangue per dire abbiamo delle madonne in questo senso abbiamo quindi tutta una tradizione che ci ricorda molte volte le immagini sacre o le sculture le pitture si sono ravvivate diventando vive a indicare questa presenza di cui l'immagine è indicativa quindi di qui la lotta che la Chiesa ha sempre fatto contro diciamo i iconoclasti quelli che distruggono le immagini sacre ora perché vi faccio questa questa premessa cioè prima di tutto perché le immagini sacre anche se sono diciamo così adesso in una società che è ampiamente non credente diciamo comunque superficiale è chiaro che se le vanno ad ammirare lo fanno per il loro valore artistico insomma tanti capolavori attirano diciamo così capolavori sacri attirano comunque non solo la curiosità dei turisti ma anche diciamo l'interesse di chi ha il senso dell'arte il senso della bellezza no però però non si percepisce più quello che è invece il valore dell'immagine sacra cioè rende presente quello che rappresenta cioè quando c'è un'immagine della madonna che un'immagine rende presente la madonna l'immagine di Cristo rende presente Cristo rende presente la sua croce la sua passione così pure vale per tutte le altre immagini sono indicative di una presenza allora questo ovviamente è stato anche confortato possiamo dire da miracoli veri e propri che Dio ha concesso per mostrare questo valore che hanno le immagini perché faccio questo ragionamento cari amici perché io per esperienza personale per esempio perché parto sempre molte volte da ciò che io ho capito da ciò che io ho vissuto vivo per me è proprio raddobbare la casa in modo tale che ci sia diciamo così ci siano quelle immagini sacri fondamentali o quegli oggetti sacri fondamentali che rendono presente diciamo così la mia fede per cui parlo delle case in generale delle case cristiane in particolare potrei parlare anche della mia casa in particolare comunque io sono un cultore di immagini quindi però insomma senza esagerare potrei indicare che in ogni caso ci dovrebbe essere una bella immagine della Madonna bella grande che magari sia nella sala della casa e che sia in un posto ben visibile io ho messa questa immagine bellissima della Madonna in un posto della mia sala cioè poi la sala cucina dove ovviamente gli appartamenti poi né piccolo né grande sono quasi tutti uguali insomma in Italia c'è un gusto particolare per questo in modo tale che io quando entro in casa apro la porta le prime immagini che ho davanti agli occhi così saluto la Madonna quando entro in casa guardo negli occhi e qualche volta gli occhi sono sorridenti alcune volte sono tristi alcune volte non è che sia sempre uguale insomma uno dice sì ma sono due rappresentazioni non lo so se è proprio così e quindi in modo tale che io quando entro in casa vedo questo bella bella quadro della Madonna la guardo la saluto come se fosse una presentata viva in casa così quando esco di casa prima di chiudere la porta con una porta semi chiusa quasi chiusa do ancora uno sguardo per salutarla per dire ci vediamo quando entro qui a Radio Maria la medesima cosa apri la porta che apro è il medesimo quadro della Madonna col quale entro diciamo così nella mia sezione di lavoro qui a Radio Maria e per cui c'è la Madonna che mi aspetta e c'è la Madonna che mi saluta quando esco fuori quindi come era scritto bellissimo una signora è stata molto brava quella signora ho pubblicato anche la sua lettera qualche giorno fa diceva noi tutti noi possiamo avere un'apparizione ora è un'espressione molto forte però certamente se è vero come è vero e come ci dice la teologia delle immagini che l'immagine richiama la presenza quindi l'immagine della Madonna richiama la presenza della Madonna e allora cari amici io posso durante la giornata mi rivolgo alla Madonna sono in difficoltà mi rivolgo alla Madonna sono triste mi rivolgo alla Madonna non sto bene mi rivolgo alla Madonna non come dire ho bisogno di una grazia mi rivolgo alla Madonna c'è chi mi chiede di pregare per lui mi rivolgo alla Madonna e lì in casa io giro mi rivolgo a lei parlo con lei ma lei mi ascolta lei mi mi ascolta come diceva Maria e dice la Madonna non mi ascolta come mia madre perché mia madre quando io parlo pensa a qualcosa d'altro la Madonna invece quando io parlo mi ascolta col cuore c'è la Madonna e lì ci rivolgiamo a lei ci ascolta col cuore io molte volte mi meraviglio che ci siano delle persone che per carità è sempre una bella cosa chiedere le preghiere e poi mandare messaggi ai vergenti anche loro insomma loro raccomandano in un modo cumulativo tutti alla Madonna quando noi possiamo noi stessi in casa nostra rivolgirci alla Madonna pregare alla Madonna chiedere le grazie alla Madonna una cosa che avete che non ve le concede fatelo con fede fatelo con perseveranza fatelo col cuore aperto e vedete vedete che anche anche in quei quadri come diceva Miriana nell'intervista che gli ho fatto io a suo tempo quando gli ho detto com'è che ti guarda la Madonna nell'apparizione e lei mi ha detto la Madonna mi guarda come una madre ebbene se voi avete un bel quadro della Madonna bisogna anche scegliere i belli quelli che proprio si vede che la Madonna ti guarda ti sorride tu ti rendi conto che anche lei davanti a quel quadro quando piangi quando supplichi quando sorridi quando ringraziti guarda come una madre guarda i suoi figli è tutta un'esperienza vera da fare ma ci vuole anche l'umiltà per farla non è una cosa da popolino è una cosa di chi crede l'immagine rende presente la persona l'immagine sacra rende presente la persona questo dunque l'invito che faccio a una bella immagine della Madonna un bel quadro della Madonna possibilmente dell'energia della pace perché ci sono tantissimi quadri a questo riguardo però anche qualche bella icona ci sono delle icone bellissime dove la Madonna ha veramente uno sguardo straordinario e poi vi dico il minimo che bisogna avere in una casa avere un crocifisso però il crocifisso a mio parere non deve essere attaccato lì fuori dalla porta in cima a dove perché se no cioè il crocifisso deve essere accessibile cioè magari sul comodino magari in un posto dove tutti poi in giugno chiare insomma il crocifisso deve essere accessibile tu in piedi puoi guardare il crocifisso puoi chiedere perdono a Gesù dei tuoi peccati puoi dire l'atto di dolore davanti a questo crocifisso puoi come dire esprimere tutto il tuo amore per le sue piaghe per il sangue versato per la calumazione di spine insomma un crocifisso che sia accessibile come il quadro della madonna in modo tale da andare e a parlare con lui un'immagine della madonna che se tu la metti nella sala diventa la padrone della casa è un crocifisso che diventa la tutela della casa la tutela perché la potenza della salvezza viene dalla croce cari amici sono il minimo indispensabile poi ovviamente il bello sarebbe che in ogni stanza ci sia un quadro della madonna un crocifisso nella stanza matrimoniale nella stanza dei ragazzi eccetera eccetera non bisogna esagerare ma neanche minimizzare cioè ovunque lo sguardo io giro nella mia casa incorrucio gli occhi di Gesù gli occhi di Maria o magari anche un bel quadro di un santo che noi prediligiamo insomma che è il nostro santo protettore e poi ci vuole come ci ha invitato più volte la madonna a fare io vi dico anche quello che faccio io io ho una bellissima vivia grandissima fra le tante che mi hanno regalate ne ho scelto una molto grande la metto su una credenza che non uso per mangiare ma è lì per quei cassetti per tutte le altre cose la metto bella grande la bibbia su una credenza sempre aperta e spesso la apro soprattutto prima di andare a letto e così molte volte la madonna mi fa capire mi fa capire prima che la saluto mi dice apri la bibbia e leggi e molte volte io la apro a caso e trovo dei versetti di cui ho bisogno proprio in quel momento come se la madonna mi dicesse lei me le indicasse lei mi le facesse trovare lei ecco non è ovviamente questo accade quando lei lo stabilisce poi normalmente perché prima di andare a letto apro la bibbia e leggo un versetto e devo dire che molte volte i versetti che leggo sono quelli di cui ho bisogno sono quelli giusti io pieno la mia bibbia di segni cioè immagini dove ho letto cose che mi hanno molto fortificato illuminato nel combattimento spirituale di tutti questi anni quindi le immagini della madonna il crocifisso la bibbia in casa è così in quella casa c'è Dio per carità il Dio deve essere nel tuo cuore prima di tutto però come dire c'è il richiamo a Dio c'è la protezione divina cari amici e quindi questo è alla portata di tutti questo è quello che ci invita la madonna a fare anzi la madonna ci ha anche invitato più concretamente ancora a mettere sul nostro corpo sul nostro collo un'immagine sacra sull'immagine della madonna un piccolo crocifisso questi segni quindi nella casa e sulla nostra persona questi segni di come dire del sacro nel quale crediamo cioè in fondo noi la nostra fede è rivolta a delle persone esistenti cioè a Dio Santissima Trinità Dio che è in tre persone uguali e distinte ma non solo Dio in Cristo Gesù la seconda persona della Santissima Trinità che è il Verbo Incarnato che ha vissuto storicamente Dio che abbiamo le immagini la Vergine Maria Dio che abbiamo tantissime immagini poi le apparizioni di Marianne ce la descrive in un modo meraviglioso è quella che viene ogni giorno ormai da più di 40 anni a Međugorje insomma e tutto questo cari amici dà un clima come dire adeguato alla nostra casa adeguato ovviamente alla fede interiore perché se manca quella manca tutto poi vorrei anche dirvi cari amici già che ci sono di non abbiate in casa roba sporca roba sporca riviste sporche giornali sporchi robaccia roba satanica la vostra casa sia pulita guardate anche nei cassetti su dei materassi dei vostri figli non permettete che insudicino la casa con immagini volgari insomma vigilate sulla vostra casa che sia la casa di Dio la famiglia è una chiesa domestica che la famiglia sia la casa di Dio queste cose ovviamente non sostituiscono la vita interiore anzi la presuppongono e la aiutano nel medesimo tempo questo è l'invito che voglio fare oggi ecco poi ovviamente poi uno può arricchire di più può abbinire di più poi insomma la famiglia deve muoversi in un ambito sacro poi specialmente i bambini i bambini piccoli imparano più dalle immagini imparano più a dare i baci a Gesù e a Maria imparano più le preghiere quando sono in qualche modo illustrate che altro e poi caro amici visto che c'è sempre quello strumento di 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 scristianizzazione che è la televisione voi cercate di usarlo il meno possibile invece di mettere una bella Radiomaria che funziona che si sente tutta la casa oppure anche attraverso la televisione sintonizzatela su Radiomaria sul digitale terrestre dobbiamo ormai dobbiamo come dire dobbiamo ricristianizzare tutto perché il diavolo si è impossessato di tutto e dobbiamo pian piano sloggiarlo prima di tutto dei nostri cori e poi anche dalle cose anche dalle nostre case ovunque anche se abbiamo un giardino mettiamo la cronotta dei Lur mettiamo una statua della regina della pace apparsa proprio a Civitavecchia in un giardino dove c'era quella statuetta che era arrivata da Međugorje insomma non abbiamo pure di queste cose facciamo queste cose perché queste cose poi oltre che essere una protezione per noi sono anche una testimonianza per gli altri L'Almanacco della Fede di Padre Livio di Padre Livio di Padre Livio